Passo ora la parola a Viviana Manganaro della Rete per il clima fuori dal fossile. Anche questa rete è focalizzata sul tema dell'energia, che sicuramente è il tema chiave da affrontare per una vera transizione ecologica. Lascio quindi la parola a Viviana Manganaro della Rete per il clima fuori dal fossile. Grazie Viviana. Grazie Manuela. Io sono qua a rappresentanza della campagna nazionale per il clima fuori dal fossile, che è una campagna che raggruppa sotto un solo logo tantissime realtà attive su tutti i territori italiani. Lo scopo è quello di, come dice la parola stessa, di lottare per un futuro energetico libero dalle fossili, pulito e soprattutto democratico, quindi accelerando l'abbandono delle fonti fossili che contribuiscono sia in modo molto importante alla, come diceva Alice, alla grave crisi climatica globale, ma che, dobbiamo ricordarlo, sono anche causa di enormi problemi ambientali proprio nei luoghi in cui queste fonti vengono estratte e dove l'energia viene prodotta. La scia dei danni lasciati da queste tecnologie utilizzate finora a volte è particolarmente evidente come nel caso del grave incidente petrolifero che è appena avvenuto in Israele, per esempio, dove lì è sotto gli occhi il petrolio lo vedi e capisci il danno che fa. A volte invece, e tra l'altro se ne parla poco o niente, sottolineiamolo, a volte invece questa scia è nascosta in modo un po' più subdolo nei cassetti degli uffici, delle aziende o delle scrivanie dei politici e viene fuori soltanto a seguito delle denunce di associazioni e comitati come i nostri, senza che però poi si vedano degli effetti risolutivi, insomma, nel sistema decisionale e senza che poi i reati ambientali vengano puniti adeguatamente. Quindi i territori da cui sono nati i comitati e le associazioni che partecipano a questa campagna, grazie tra virgolette ad impianti di estrazione, ai gasdotti, alle centrali a carbone e agli impianti produttivi che col carbone si alimentano, tanto per citare una ilva a Taranto, sono stati teatri di devastazione e inquinamento che poi hanno portato in molti casi a malattia e a morte e anche queste rimaste impunite. E poi la macchina legislativa si inceppa spesso e volentieri per via di giochi di potere, tra potere politico e potere economico, che fanno sì che poi per un passo avanti che si fa se ne facciano due indietro. Un caso emblematico è quello delle trivelle che qualcuno in un report ha chiamato le vecchie spilorce, sono strutture ormai però più in disuso e faticenti e sono destinate a crollare in mare e andrebbero bonificate, ma con dei costi che sono enormi e le aziende ovviamente non se le vogliono sobbarcare. Il caso della piattaforma Ivana D, affondata il 5 dicembre in alto adriatico, è emblematico di quello che attende tutte queste strutture che però rimangono lì. Ai tempi del referendum erano stati individuati 34 se non sbaglio impianti da smantellare e da bonificare. Adesso siamo al punto che dopo due anni di rinvii la moratoria sulle prospezioni e nuove concessioni è appena scaduta, è stata rinviata a settembre ma ovviamente non è sufficiente, noi aspettiamo veramente con ansia che venga dato uno stop definitivo alle attività estrative. Come diceva Alice, la grande bugia che viene raccontata è che solo il petrolio e il carbone siano quelli che creano problemi, mentre il metano viene promosso con anche un grande impegno in attività di greenwashing come energia necessaria per la transizione energetica. Questo non solo non corrisponde alla realtà ma costituisce anche un enorme problema perché la realtà è che quando si parla di emissioni che hanno degli impatti sul clima si pensa solo alla CO2, ma non si menziona mai il fatto che il metano ha un potere clima alterante che è 80 volte superiore alla CO2 e la differenza è solo che ce l'ha prima della combustione e non dopo. Peccato che è un gas che tende a fuggire, a scappare, quindi ne viene dispersa una grandissima quantità in atmosfera sia in fase di estrazione che di trasporto che di distribuzione. Per cui il risultato è che sostituendo i fossili che producono CO2 col metano si rischia di ottenere addirittura un effetto negativo superiore al problema che si vuole risolvere. Per arrivare al recovery plan io non do i numeri perché i numeri ne ha già dati tanti Corrado Oddi, quindi io poi sono una capra con i numeri, in realtà ne basta uno su tutti, 35,7 miliardi di incentivi alle fonti fossili che si danno ogni anno, nel recovery plan non c'è traccia di questa cancellazione di questi incentivi, per cui alla luce di tutte le informazioni che ho dato fino adesso, i progetti di finanziamento di opere che vadano nella direzione dell'utilizzo ad oltranza del gas sono ovviamente degli sprechi assurdi di risorse che andrebbero, come diceva Lice, utilizzate solamente per progetti che puntino al 100% di rinnovabili. Il tempo per i passaggi intermedi non c'è più, il treno del recovery plan passa ora, non ne avremo altri in grado di portarci così velocemente verso l'azzeramento delle emissioni. Investire adesso i fondi del Next Generation EU nel gas significa perdere forse l'ultima possibilità di garantire al nostro paese rispetto degli accordi di Parigi e la riqualificazione dei nostri territori già abbastanza martoriati. Il CCS, il progetto di cattura e stoccaggio della CO2 che è previsto su Ravenna, che Enia ha previsto su Ravenna, ad oggi è uscito dal recovery plan e bisogna fare di tutto perché non ci rientri. Così come l'investimento nelle centrali a gas in sostituzione di quelle a carbone o investimenti nell'idrogeno blu che viene sempre dal metano non è pensabile, come non è pensabile investire nei gasdotti destinati al metano con la scusa che potrebbero poi trasportare l'idrogeno da altre parti del mondo. Insomma questo genere di investimenti devono cessare, è arrivata l'era della microproduzione, microdistribuzione, comunità energetiche, dei prosumer. Poi c'è una quota di energia che ovviamente dovrà per forza essere prodotta da grandi impianti ma diciamo nell'ordine di una proporzione 70% di microproduzione, 30% di grandi impianti dove non si possa fare altrimenti, per esempio le grandi aree industriali, portuali, dove magari l'idrogeno verde può essere prodotto sul posto. Quindi oggi la contrapposizione fra la difesa del lavoro e la difesa della salute a Civitavecchia è venuta a meno perché a Civitavecchia oggi c'è stato uno sciopero, i lavoratori sono scesi in strada compatti per ribadire che la possibilità di aprire una nuova centrale a turbogas nella loro città costituisce un problema sia per la salute che per il lavoro perché il fatto che questa centrale porti più lavoro è assolutamente una balla. Quindi sono scesi con l'appoggio di Cobas e di FIOM e questo è un evento epocale perché di solito il ricatto occupazionale fa sì che ci sia sempre questa opposizione fra lavoratori e ambientalisti. In realtà adesso queste due forze si sono unite e nel fa dire al governo che l'itero autorizzativo deve andare avanti a tutti i costi, a prescindere da tutto, ma questo non si può più accettare né a Brindisi né a Taranta, a Civitavecchia, a Fusino o altrove. Quindi è la campagna nazionale per il clima fuori da fossile sia schierata con i lavoratori di Civitavecchia e lo farà con tutti i lavoratori che decideranno di lottare per questa conversione. Siamo qui in rapporto, in comunicazione con i movimenti per l'acqua perché c'è anche una campagna che si farà insieme in cui appunto si chiederà che vengano tolti gli oneri in bolletta, l'acqua da una parte, ma noi abbiamo anche degli oneri per l'energia come gli oneri nucleari, gli incentivi alle rinnovabili, le agevolazioni per il settore ferroviario, eccetera, eccetera, la ricerca di sistema, tutti questi oneri devono ricadere sulle aziende perché non ha senso che debba essere il consumatore a pagare per tutto quello che le aziende avrebbero dovuto fare decenni prima, non è che sono due anni che diciamo alle aziende guardate che dovete puntare sulle rinnovabili, ormai si parla di decenni, le aziende non lo hanno fatto fino adesso e non ha senso che siamo noi a pagare arrivati a questo punto. Quindi c'è tra l'altro il dato, poi è recentissima la notizia che addirittura l'Aro Copper sta facendo ricorso attraverso le CT, che è il trattato internazionale che consente agli investitori di fare causa contro i governi per i risarcimenti sia per le spese che i mancati proventi per ombrina mare. Anche questo farà causa per una somma di 275 milioni di dollari, cioè qui siamo al punto che se non ti facciamo fare qualcosa che devasta l'ambiente, che danneggia la salute delle persone, ci devi fare causa e siamo veramente al paradosso, per cui nel recovery plan bisogna assolutamente che venga detto che gli incentivi alle fossili non vanno più dati, che le fossili sono assolutamente fuori da ogni programmazione e che le rinnovabili daranno molto più lavoro rispetto alle fossili. E questo è un dato, se volete potete anche andare a vedere i dati forniti, ci sono vari studi comunque da Irena che ha evidenziato che un programma di stimolo delle rinnovabili potrebbe creare fino a 5,5 milioni di posti di lavoro in più nei prossimi tre anni. Va in chiusura Viviana, grazie. Ok, rispetto all'approccio business as usual. Basta, io sono finita. Ok, non volevo interromperti così brutalmente ma... No, no, ma ero arrivata in fondo, ero arrivata in fondo. Bene, bene, bene. Grazie, grazie mille Viviana per questa analisi molto puntuale sulla questione energetica che è sicuramente determinante per un reale cambiamento di passo per la transizione e la resilienza.